Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa. L'obiettivo è quello di proseguire la nostra panoramica su linguaggio HTML andando a vedere aspetti un po' più di dettaglio. Finora abbiamo visto quali sono i principali elementi che vengono utilizzati in questo linguaggio. Iniziamo a vedere alcuni dettagli. Un dettaglio importante è dato da come vengono gestiti i caratteri. I caratteri all'interno di un file HTML vengono scritti direttamente, infatti stiamo parlando di un file puramente testuale. Ci sono alcuni caratteri, ad esempio il minore e il maggiore, che vengono utilizzati per rappresentare, per racchiudere i tag che permettono di definire gli elementi, o la e-commerciale che ha, vediamo un significato particolare, che non possono essere scritti direttamente, perché quando scrivo un minore HTML pregiuppone che quello sia l'inizio di un tag. Per questo motivo all'interno di HTML, per questi caratteri speciali, per tutti i caratteri che noi non riusciamo a scrivere direttamente su una tastiera, sono stati previsti quelli che si chiamano delle entità. L'entità è un frammento di testo che inizia con la e-commerciale, ha un codice dell'entità ed è terminato da un punto e virgola, e servono appunto per andare a rappresentare tutta quella serie di caratteri che non sono utilizzati, cioè non sono scrivibili direttamente tramite tastiera, o non sono utilizzabili o scrivibili direttamente ad esempio minore e maggiore. Alcuni esempi, e-commerciale LT permette di andare a rappresentare il carattere di minore, less than. Greater than, quindi e-commerciale GT, punta e virgola, rappresenta il carattere di maggiore. e amp, ampersand, rappresenta la e-commerciale. Quindi, se vogliamo utilizzare questi specifici caratteri, siamo obbligati a utilizzare queste specifici entità e non possiamo scrivere direttamente il carattere nel testo del documento HTML. Oltre a queste entità che hanno un nome predefinito, possiamo andare a rappresentare anche caratteri che non hanno un nome predefinito, andando a utilizzare quello che è il suo codice univoco numerico. La sintassi che utilizziamo è quella che vediamo qua, quindi e-commerciale, hash e poi il valore numerico del codice, e poi un punta e virgola, ad esempio 169 corrisponde al simbolo del copyright. Attenzione che quando utilizziamo questo codice numerico, il carattere che effettivamente verrà rappresentato dal browser nella decodifica dell'entità dipende dal set di caratteri, o char set, che noi abbiamo a disposizione all'interno del nostro browser, sostanzialmente che viene utilizzato all'interno del documento HTML, ed è quello che abbiamo visto e rappresentato all'inizio del documento quando andiamo a specificare nelle meta informazioni il char set. In particolare, un set di caratteri è tutto l'insieme di caratteri che noi siamo in grado di rappresentare. L'esempio più semplice è il codice ASCII che rappresenta 127 caratteri, che sono le lettere minuscole e maiuscole, i numeri e alcuni simboli più comuni di quello che è l'alfabeto latino, ma ad esempio non rappresenta le lettere accentate. Un char set che cosa fa? Definisce quella che è la corrispondenza tra un valore numerico, quindi il codice del carattere, nel caso del codice ASCII è un qualcosa che è rappresentato in un byte, quindi su 7 bit, 627, i caratteri utilizzati, e mi dice, dato quel valore numerico, qual è il corrispondente carattere che viene rappresentato. Ad esempio, se io ho il valore del decimale 41, ovvero 65 decimale, il corrispondente carattere che viene associato dal char set ASCII è la lettera I maiuscola. In base alla codifica dei caratteri, il browser che cosa fa? Legge il documento, che è sostanzialmente una sequenza di byte, e quindi di valori numerici, e traduce questi byte in simboli in caratteri. Il codice più diffuso, o meglio quello che è più rappresentativo all'interno dello standard HTML5 è lo standard Unicode, che è quindi uno standard che è in grado di assegnare a un qualunque linguaggio esistente, presente o anche passato, un codice numerico univoco. Unicode è sostanzialmente la codifica più ampia, che racchiude i codici più diffusi e gli alfabeti più diffusi. Lo standard Unicode definisce sostanzialmente una specifica standard, che quindi identifica quali sono i principi con cui io associo un codice numerico a un carattere e viceversa, una serie di code charts che vanno a rappresentare quelli che sono i glifi, ovvero la rappresentazione visuale del carattere, e tutte le informazioni aggiuntive. E ovviamente possiamo andare a cercare sul codice, sul sito del Unicode, anche tutti i caratteri, perché esiste un database complessivo dei caratteri che sono rappresentati in questo alfabeto. Alcuni concetti fondamentali sono quelli di carattere, che rappresenta un concetto astratto, ad esempio la lettera I maiuscola dell'alfabeto latino, minuscola, maiuscola. Queste sono una serie di varianti che noi possiamo avere. E poi abbiamo il concetto di glifo. Il glifo è la rappresentazione grafica di un carattere. Ovviamente, dato un carattere, noi possiamo avere tanti glifi. Perché? Perché abbiamo tanti font e abbiamo varianti di font. Per cui, dato la lettera I minuscola dell'alfabeto latino, io posso avere queste quattro varianti. Perché ho quattro fonti diverse. Posso anche avere all'interno del font una connotazione aggiuntiva. Quindi posso avere il grassetto, l'italico. Queste ulteriori specifiche, cioè il grassetto e l'italico, non sono contemplate all'interno dello Unicode. Quindi sono delle connotazioni, delle caratteristiche che noi aggiungiamo a posteriori. Quindi in Unicode io ho la lettera I minuscola dell'alfabeto latino. In aggiunta posso aggiungere, ovviamente, delle modifiche grafiche. Il font, sostanzialmente, è un insieme di glifi che mi permette di andare a rappresentare tutti i caratteri definiti nel charset. O comunque, quantomeno, un sottoinsieme ragionevole. Esiste poi quello che è il codepoint, ovvero la rappresentazione numerica di un carattere. Secondo Unicode, i codepoint sono tutti i numeri che io riesco a rappresentare, utilizzando una notazione decimale, da 0 a 10FFFF. Ovvero, sto andando a rappresentare tutti i caratteri che riesco a scrivere su 23 bit, usando una notazione binaria. In Unicode, quando io voglio andare a rappresentare un codice, posso descrivere il suo codepoint in formato testuale, utilizzando U più e poi il valore esadecimale di quel carattere, ovvero il suo codepoint rappresentato in esadecimale. Quindi U più 0069, come abbiamo visto precedentemente, rappresenta la lettera I dell'alfabeto latino minuscola. O, ad esempio, U più 16B5, che è la lettera G dell'alfabeto runico. Oppure la lettera 0913, che è la lettera O dell'alfabeto indiano sanscrito. Quindi abbiamo tanti codepoint a cui lo standard di Unicode fa corrispondere quello che è un unico glifo. Ovviamente, cambiando il font, cambierà il dettaglio del glifo, ma sostanzialmente resterà invece univoca quello che è il suo significato, ovvero quello che è il carattere. lettera minuscola dell'alfabeto latino. A questo punto, una volta che noi abbiamo una definizione di un carattere, abbiamo il suo codepoint, dobbiamo andare a rappresentarlo in una sequenza di byte, che è quello che viene trasmesso su internet. Quindi c'è quello che si chiama un meccanismo di codifica e decodifica. Unicode prevede diversi meccanismi di codifica e decodifica. Ad esempio, quello più semplice, questo perché non richiede di fare nessuna elaborazione particolare, è la codifica UTF32. UTF32 prevede di convertire ogni carattere in una sequenza di 4 byte, ovvero 32 bit. Per cui, ad esempio, la lettera I viene tradotta, partendo dal suo codepoint che è 0069, in questa sequenza. Di nuovo, qui è il decimale, quindi 00000069. Come potete facilmente capire, buona parte dei caratteri che noi utilizziamo quotidianamente, cioè l'alfabeto latino, sono spesso rappresentati su pochi bit, quindi utilizzano dei 4 byte soltanto 1. Gli altri sono tutti valori messi a 0, per cui la codifica UTF32, sebbene molto semplice, spreca molto spazio. Per i caratteri che io, utilizzando una codifica ASCII, potrei rappresentare con un singolo byte, la codifica UTF32 me ne richiede 4, quindi 4 volte lo spazio di memorizzazione. Una versione un po' più utile, un po' più efficiente in termini di rappresentazione di utilizzo di memoria, è quella che si chiama UTF16, in cui, sostanzialmente, tutti i codepoint che vanno da 0 a FFFF sono rappresentati su 16 bit, quindi 2 byte. I codepoint superiori, quindi quelli più grandi, sono invece rappresentati su 32 bit. Qual è l'idea di base? È che sostanzialmente i caratteri che hanno un codepoint basso, e che quindi avrebbero nella codifica UTF32 i byte più alti messi tutti a 0, in questa codifica utilizzano soltanto 16 bit, quindi abbiamo un risparmio significativo di memoria. Tenete presente che tutti gli alfabeti latini normalmente utilizzano dei codepoint che sono valori bassi, quindi potenzialmente utilizzano soltanto 16 bit per andare a rappresentare i caratteri. Ma, tuttavia, questo rappresenta ancora uno spreco, perché buona parte dei caratteri comunque utilizzano 16 bit, mentre nella variante, ad esempio ASCII, andrebbero a richiedere soltanto un byte. Quindi raddoppiamo l'occupazione di memoria. Meglio di quadruplicarla, ma comunque abbiamo un'occupazione di memoria significativa. Ad esempio, la E accentata ha come codepoint U più 00E8, e quindi la sua rappresentazione è 0x00E8. Due byte, in cui un byte è a 0, l'altro vale E8. Esiste un altro tipo di codifica, che probabilmente è quella più diffusa nella trasmissione delle informazioni, che è la codifica UTF8, che utilizza come unità di base 8 bit, ovvero un byte. Secondo questa codifica, i codepoint da 0 a 7f sono mappati direttamente su un byte. Questa è una codifica che si chiama ASCII Transparent, ovvero, se vi ricordate, il codice ASCII rappresenta, definisce una serie di caratteri, 127 caratteri, quindi utilizza 7 bit. Quindi i 7 bit che sono utilizzati nella codifica ASCII hanno esattamente gli stessi, i caratteri che vengono rappresentati nella codifica ASCII, hanno esattamente gli stessi codepoint in ASCII e in UTF8. E essendo rappresentati nella codifica UTF8 su un unico byte hanno esattamente lo stesso risultato. Quindi un file scritto con la codifica ASCII può essere decodificato in UTF8 senza nessun problema, quindi non c'è nessuna differenza. Esistono poi ovviamente tutta una serie di altri caratteri, ad esempio le lettere accentate. In questo caso non sono sostanzialmente dei codepoint che sono comprese in intervallo da 0 a 7f, da 0 a 127, ma hanno dei codepoint più elevato e quindi questi caratteri accentati vengono rappresentati normalmente su due byte. Ovviamente se io ho codepoint molto più elevati questi potranno essere rappresentati su 16, 24, 32 byte. Ovviamente i 32 byte, i 32 bit scusate, sono utilizzati soltanto per dei codepoint che sono diciamo rari, quantomeno secondo gli alfabeti occidentali. Ad esempio il carattere è accentato che ha come codepoint, abbiamo visto prima U più 00 e 8, viene rappresentato nella codifica UTF8 come una sequenza di due byte C3 e A8. Attenzione a utilizzare correttamente le codifiche perché se io utilizzo la codifica Unicode UTF8 per andare a codificare qualcosa e utilizzo la codifica Unicode UTF16 per andare a decodificare non ottengo lo stesso risultato. Inoltre ottengo anche risultati molto diversi se vado ad esempio altre codifiche. Ci sono delle codifiche ISO, ad esempio la ISO 8859.1 codifica i caratteri alfabetici degli alfabeti occidentali, quindi include anche le lettere accentate su singoli byte. Per cui ad esempio il codice, scusate, il carattere è accentato che ha questo codice Unicode UTF8 può essere convertito in due byte C3 A8. Secondo l'ISO 8859 questi due byte corrispondono ai caratteri A con la sediglia sopra e al carattere di Umlaut. Quindi se io ho scritto un'area accentata con la codifica UTF8 ho prodotto due byte, se questi due byte decodifico con lo standard ISO 8859.1 ottengo questi due caratteri che non hanno niente a che fare con l'area accentata. Ecco, questo è giusto un esempio per andarvi a descrivere un problema che probabilmente vi sarà già capitato utilizzando i browser. Se il browser non utilizza la codifica adatta, ovvero quella che è stata utilizzata per scrivere il contenuto, vi mostrerà dei caratteri particolari. Questo ha effetto normalmente sui caratteri che corrispondono a lettere accentate o altri caratteri particolari. Non avviene perché UTF8, ISO 8859 e buona parte dei CHAR7 sono ASCII transparente, ovvero codificano tutti nello stesso modo i codici che corrispondono ai caratteri base. Quindi i numeri, le lettere minuscole e quelle maiuscole e i simboli di base, più o meno, parentesi, eccetera. Tornando al nostro esempio, se invece noi andiamo a prendere l'area accentata che andiamo a codificare con l'ISO 8859 come un unico byte che ha come valore E8, se andiamo a decodificare questo unico byte utilizzando UTF8 scopriamo che questo valore qui è un valore non valido nella codifica UTF8. E quindi abbiamo una rappresentazione di carattere non valido che normalmente in Unicode è quel carattere col punto interrogativo. Quindi attenzione alle codifiche che utilizzate, nei vostri file HTML andate sempre a indicare qual è la codifica utilizzata, preferibilmente UTF8, ma se ne utilizzate un'altra indicate quella che avete utilizzato in modo che il browser possa andare a decodificare correttamente i vostri contenuti. Un altro elemento che noi possiamo andare a mettere all'interno dei nostri file HTML è quello che è rappresentato da i form. Che cosa sono i form? I form sono sostanzialmente dei meccanismi che permettono di trasferire delle informazioni dall'utente al server. Quindi io all'interno dell'HTML vado a mettere un form, all'interno del form andrò a mettere dei campi che l'utente può riempire, quindi tutta la volta che voi andate a inserire dei dati all'interno di una pagina HTML sostanzialmente state inserendo dei dati all'interno di un form. I form hanno poi due attributi importanti, uno è dato dal metodo per cui mi dice se poi la richiesta HTTP che io dovrò fare è una richiesta di tipo GET o di tipo POST, e ACTION ovvero l'URL a cui dovrò andare a fare la richiesta, a cui dovrò sostanzialmente andare a inviare i dati che ho inserito all'interno del mio form. Una piccola nota sulla differenza tra GET e POST. La differenza tra i due metodi che abbiamo a disposizione, GET e POST, sostanzialmente consiste nel modo in cui i valori che vengono letti dalla forma vengono codificati e inviati al server. Per cui nel caso della GET i codici, i valori che vengono letti nella forma sono codificati nella parte di query all'interno dell'URL che viene mandata al nostro server. Quindi, come vedete, verrà messa un URL con punto interrogativo e le informazioni passate. Questo tipo di codifica ha un paio di limiti. Primo, quell'URL è visibile nella barra di indirizzo del nostro browser. Quindi, se noi stiamo mandando informazioni sensibili, ad esempio nome utente e password, una persona che ci guarda alle spalle sostanzialmente legge quel valore sulla barra del browser. Un altro limite che è dato da questo tipo di codifica consiste nel fatto che il limite in termini di carattere che io posso trasmettere con una richiesta di tipo GET è intorno ai 2000 caratteri. Gli standard danno dei limiti intorno agli 8000 caratteri, ma buona parte dei browser e dei server alla fine hanno un limite molto più breve e quindi non posso trasmettere grandi informazioni. Quindi questi sono i due limiti principali delle richieste fatte tramite GET. Per quanto riguarda le richieste fatte tramite POST, invece la codifica avviene direttamente nella richiesta HTTP. Quindi l'URL è molto semplice, non contiene alcun dato, mentre invece nella richiesta che viene mandata dal browser al server vengono elencati tutti i valori che noi abbiamo definito nel form. Per cui qui dentro possiamo mandare anche dati molto grandi. Immaginate quando dovete sottomettere il contenuto di un file. Ecco, il contenuto del file è molto grande e quindi non ci potrà mai stare all'interno di una richiesta di tipo GET, mentre invece tranquillamente può essere trasmesso tramite una richiesta di tipo POST. Inoltre, l'altro vantaggio è che non c'è traccia dei valori che noi trasmettiamo nell'URL, quindi non vediamo in ogni caso il tipo di informazione che viene inviata. Attenzione, se voi utilizzate un protocollo HTTP, chiunque possa ascoltare la vostra trasmissione, se usate ad esempio un wifi non sicuro, è in grado di andare a vedere i dati che voi mandate. Per questo motivo solitamente è bene adottare dei protocolli sicuri, come ad esempio HTTPS, per andare a trasmettere queste informazioni. Come sono codificati i vari elementi all'interno di un form? Sostanzialmente all'interno di un form, che è un elemento non di tipo block, ma un elemento di tipo inline, quindi non definisce una discontinuità, perché non ha una connotazione grafica, ma semantica, perché racchiude tutti i campi che verranno trasmessi. All'interno di questo elemento posso andare a mettere altri elementi di tipo input, textarea e select. Questi tre tipi di elementi hanno due attributi importanti. Il nome, che è ovviamente il nome che verrà trasmesso al server, e il valore, che contiene il valore iniziale o predefinito per quel particolare campo. Per quanto riguarda gli elementi di tipo input, esiste un altro attributo che si chiama type, che definisce il tipo di input che noi vogliamo leggere. Abbiamo diversi tipi. Abbiamo il tipo text, e quindi è un campo di testo, una unica riga. Elementi tipo sub-bit, che sono dei pulsanti, i checkbox, radio button, elementi tipo file, che permettono di leggere un file e poi di inviarne i contenuti. Elementi tipo password, che permettono di scrivere una password senza mostrare i caratteri. E poi elementi tipo hidden, che sostanzialmente sono nascosti e non sono direttamente manipolabili dall'utente, ma sono annegati all'interno della pagina. Giusto per darvi un esempio, gli elementi di tipo text sono quelli che vediamo qua, quindi ho una barra di testo in cui posso andare a scrivere dei contenuti. Abbiamo il radio button, in cui posso andare a selezionare soltanto uno, quindi sono elementi mutuamente esclusivi. Abbiamo il checkbox, in cui io posso andare a selezionare tutti gli elementi, quindi non sono mutuamente esclusivi. Abbiamo cambi di tipo number, in cui io posso andare a incrementare o decrementare. Abbiamo le password, in cui se io vado a mettere il testo non vedo l'output, in modo che se qualcuno sta guardando lo schermo non possa vedere la password. Abbiamo dei campi tipo range, in cui io posso andare a definire un valore. Abbiamo dei campi tipo file, in cui posso andare a scegliere un file sul mio file system per essere trasmesso al server. Per quanto riguarda gli altri input, io ho la possibilità di avere una text area in cui ho un'area di testo, quindi testo scritto su più righe e ha due attributi che sono il numero di colonne e il numero di righe. Text area è un elemento al cui interno io posso andare a inserire dei contenuti. Quei contenuti verranno interpretati come il valore iniziale della text area. Poi ho elementi tipo select che mi permettono di andare a selezionare tante opzioni. C'è la possibilità di andare a elencare le opzioni utilizzando un altro elemento di tipo option che avrà al suo interno del testo, che è il valore che io vedo, e avrà un attributo value che è il valore che verrà assegnato quando io seleziono quella particolare opzione all'interno di un select. Ad esempio, quando io ho una text area, come in questo caso, ho un certo numero di colonne, ad esempio 45, e un certo numero di righe, ad esempio 3. Per cui quando vado a mostrare il contenuto, quello che riesco a vedere è sostanzialmente una parte del mio testo. Quando ho invece delle opzioni, come vedete, ho un select che mi definisce il nome del valore che verrà trasmesso al server, e ho tante opzioni che hanno dei valori. Ovviamente, andando a selezionare una particolare opzione, quel valore verrà inviato al server. Per scegliere le opzioni posso utilizzare delle etichette che sono quelle che sono racchiuse qui all'interno delle option. Per cui vedete che ho questa scelta multipla. Se vado a scegliere measurement, ovviamente al server mi ha mandato il valore L3. Oltre agli elementi che abbiamo visto, all'interno di un form, io posso andare a definire altri elementi. Abbiamo quindi elementi tipo label, che permettono di identificare delle etichette associate ai campi che voglio inserire. Questo è per migliorare l'accessibilità dei form. Immaginate di avere persone che abbiano problemi di vista. Può esserci un browser che è in grado di leggere le etichette per i campi, che altrimenti sarebbero difficili da capire e da identificare da un punto di vista del non vedente. Inoltre c'è la possibilità di avere degli elementi che sono chiamati di fieldset che raggruppano un insieme di campi correlati e all'interno del fieldset io posso andare a definire quella che è una leggenda, cioè una descrizione di quello che è rappresentato da quell'insieme di attributi. Ad esempio, in questo frammento noi vediamo un fieldset che ha una leggenda che ha come descrizione course features e abbiamo due input che vediamo qua, un input che ha come nome corso e l'altro input che ha come nome CFU. Per quanto riguarda il corso abbiamo questa label for course che recita course name, mentre invece abbiamo quest'altra etichetta credits for CFU che va a descrivere invece il nome di questo, l'etichetta di questo input che si chiama CFU. Ovviamente quando faccio riferimento, quando associo un'etichetta a un campo di input, devo andare a utilizzare quello che è il suo identificatore nell'attributo for dell'etichetta che deve corrispondere all'attributo id del mio campo. Per cui vedete course name viene messo qua sopra e quando io vado a posizionarmi qui posso andare a mettere ovviamente il mio corso. E nei miei crediti, che vedete indicato come un input tipo number, potrò andare a scegliere, scusate, un valore. A questo punto chiudiamo con quello che è un minimo di terminologia che può essere utile per capire i diversi aspetti di un documento HTML. Spesso si fa riferimento a quello che è un MIME type. Il MIME type è un meccanismo che permette di andare a definire il tipo di contenuto di un file. MIME sta per Multipurpose Internet Mail Extension ed era inizialmente stato pensato per andare a codificare i tipi dei contenuti dei file allegati alle MIME. Adesso è utilizzato in maniera molto più estesa per andare a specificare quello che è il tipo di contenuto di un qualunque file trasmesso, ad esempio tramite il protocollo HTTP. Questo serve soprattutto al browser per andare a capire come decodificare, come mostrare un contenuto. Per cui è chiaro che se voi vi collegate a un documento il cui MIME type è text slash HTML, questo verrà codificato come un file HTML. Se il suo MIME type è text slash plain, quindi testo semplice, questo documento verrà codificato come semplice testo. Quindi ad esempio i tag non verranno interpretati come tali, ma potrebbe anche essere un'immagine e quindi il contenuto del file verrà interpretato come un'immagine. Il tipo di codifica di solito viene specificato come un tipo di top level, quindi la tipologia generale del contenuto, ad esempio text, octet, byte stream, eccetera, seguito da un sottotipo che mi dice in particolare come deve essere identificato quel tipo di contenuto. Eventualmente possono esserci dei parametri che mi vanno a dettagliare alcune caratteristiche ulteriori del mio formato. I tipi di alto livello sono text, image, audio, video e application, che mi vanno a descrivere la tipologia generale di dati che viene trasmesso, quindi dati testuali, dati che descrivono un'immagine, audio, video oppure dati specifici per un'applicazione, che quindi dipende dal tipo di applicazione che stiamo utilizzando. Tutti i MIME type sono definiti in un unico registro generale che è gestito dalla IANA, che è un'organizzazione che per l'appunto gestisce questo tipo di informazioni in maniera unica e centralizzata, in modo che i MIME type devono essere definiti in maniera univoca e non ambigua. Alcuni esempi, text slash plane fa riferimento a un file puramente testuale, quindi non è HTML, è testo pure e semplice. Associato a questo MIME type spesso viene specificato quello che è un charset. Perché? Perché all'interno di un file HTML io posso andare nelle meta informazioni a dire qual è il charset e quindi il browser è in grado di interpretarlo. Per un file di tipo testuale, dove vado a scrivere il charset? Essendo testo non viene interpretato in alcun modo e quindi è opportuno andare ad associare quello che è un charset in modo che il browser decodifichi correttamente il testo e lo mostri in maniera adeguata. Text slash HTML rappresenta i file HTML che quindi come tali verranno interpretati. Poi ovviamente abbiamo tanti tipi di immagini, ad esempio image slash jpeg, image slash png, ismage slash svg.xml. In generale se abbiamo un file di contenuto binario che non ricade in quelli precedenti, immaginate che so un archivio di tipo zip, ecco, quello che possiamo utilizzare è application slash octet stream che è una serie di byte. Nella terminologia internet molto spesso i byte vengono chiamati octetti, ovvero gruppi di 8 byte. Quindi octet di solito è un sinonimo di byte. Quindi octet stream significa uno stream, un flusso di byte che verrà non interpretato, verrà memorizzato normalmente su disco, quindi all'interno di un file, tale e quale, quindi la sequenza di byte, tale e quale verrà scritta all'interno di un file. Qui ho poi raggruppato un po' di riferimenti che potete utilizzare per andare a approfondire diversi aspetti o se avete dei dubbi o volete conoscere meglio alcuni aspetti. Gli ultimi due riferimenti sono utilizzati per andare a vedere le principali caratteristiche degli standard web, quindi questo arriva dal MDN, Mozilla Development Network, e questo invece è V3School. Se volete avere informazioni su Unicode potete andare a vederlo sul sito del Unicode, quindi unicode.org. Per quanto riguarda i MIME type, ecco, questi sono descritti in una RFC, ovvero uno standard internet che si chiama 2046. In generale, se volete avere una panoramica di quelle che sono le principali caratteristiche di HTML, ho trovato sul sito di V3C a questo indirizzo, per andare a capire quali sono tutte le tecnologie legate all'ambiente web, invece potete fare riferimento a questo sito che raccoglie tutti i principali standard che sono attivi all'interno della famiglia degli standard web. E infine, lo standard HTML5 è definito dal V3C e quindi è definito in questo documento ufficiale. Quindi con questo noi abbiamo concluso la nostra panoramica su HTML, andando a vedere alcuni aspetti un po' più di dettaglio, che possono essere utili e verranno utilizzati di tanto in tanto. In generale, è bene ricordarsi di quello che abbiamo menzionato, l'utilizzo delle entities per andare a descrivere caratteri particolari e quello che è il significato del charset, ovvero lo standard che viene utilizzato per andare a codificare e decodificare i caratteri che verranno poi utilizzati, che verrà poi utilizzato dal browser per andare a mostrare il carattere corretto. E infine abbiamo parlato dei form e del modo di andare a trasmettere informazioni da una pagina web a un server, andando a inserirle all'interno dei campi definiti dentro una form.